Si chiama Matteo Marcus Bocca e ha 14 anni. Ragazzi, queste sono le scale dell'Arison. E lassù c'è il palco. Il cuore mi batte a mille. Ok, un grande respiro. Come on guys, let's go! Sì! Vai! Ciao, scusate. Ciao a tutti. Spieghiamolo. Siamo sulle stories di Instagram. In realtà adesso siamo anche live. Siamo anche live. Esatto. Siamo in diretta. Abbiamo 600 persone. Eh? 600 persone. Beh. Non male. Non male, certo. Qua non male. Se ci vedono 600 persone a casa, ci ammazziamo. Eh, probate. Ma vorrei dire, però, è bellissimo perché abbiamo una visione parallela. Esatto, una doppia diretta. È una doppia diretta. Lui che ha 14 anni, 16 anni, usa questo. E noi invece, che siamo antichi come il brodetto, abbiamo... Non esageriamo, dai. Però è bellissimo, è proprio bello, sai, mi piace. Vero, è simpatico. Senti, adesso però lo devi mettere via perché dobbiamo cambiare. Eh, già. Quindi ragazzi, un bacione, vi voglio bene. Va bene. Perfetto. Sei pronto? Siamo prontissimi. Intanto ti seguiranno, ti seguiranno anche qui. Lo spero, dai. Di Minellono Cutugno, Noi Ragazzi di Oggi. Con il codice 04 canta Matteo Marcus Bock. Noi ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi, ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali, e stimoli eccezionali. Noi non puoi farci piangere, ma non puoi farci cedere. Noi non puoi farci prendere, ah, da questo eterno avventere, ah, noi non sappiamo in cosa credere. Ehi, devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi, noi. Dai coloriamo questa città, e poi vedrai che ti piacerà. Na na na, na na na, siamo noi, siamo i ragazzi di oggi, noi. Infine amici che tu non hai, e tutti insieme si può cantare. Avanti! Ragazzi di oggi, noi, ragazzi di oggi, noi, noi sappiamo in cosa credere. Ragazzi di oggi, noi, ragazzi di oggi, noi, siamo il fuoco sotto l'accelerei. Non farti prendere, ah, da questo eterno attendere, ah, noi, siamo quello che può succedere. Non fare spegnere, ah, da voglia che hai di ridere, ah, noi, siamo quelli in cui tu puoi credere. Devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi, noi. Dai coloriamo questa città, e poi vedrai che ti piacerà. Na na na, na na na, siamo noi, siamo i ragazzi di oggi, noi. Infine amici che tu non hai, e tutti insieme si può cantare. Ragazzi di oggi, noi, ragazzi di oggi, noi, ragazzi di oggi, noi, poi vedrai che ti piacerà. No. . No. No. Oh. No. Grazie.